Cari amiche e cari amici benvenuti in questo nuovo video, benvenuto anche ai nuovi iscritti, benvenuto anche ai semplici curiosi capitati qui per sbaglio. Questo video si apre con la commemorazione della strage alla stazione di Bologna che come sapete avvenne il 2 agosto 1980, un mesetto dopo la caduta del 19 nei mare di Ustica. Dopo 42 anni, nonostante siano stati argastolati in via definitiva Valerio e Giusva Fioravanti, Francesca Mambro e Luigi Ciavardini, mentre lo sono stati ma in primo grado i neofrancisti Gilberto Gavallini e Paolo Bellini, i giornalisti nei loro servizi tv, ricordando la strage, non hanno potuto fare a meno di sottolineare come la strage di Bologna presenti ancora a molti lati oscuri. Infatti tutti gli accusati e condannati per quella strage si sono sempre proclamati innocenti. Qui vi faccio vedere un appello del 2020 nei quali Fioravanti e Mambro si rivolgevano al presidente della Repubblica, Mattarella. Mi viene in mente quel libro di Zamberletti che tante volte ho già citato, la minaccia alla vendetta, dove Zamberletti fornisce la sua chiave di lettura per le stragi di Bologna e di Ustica che Zamberletti ritiene collegate e lo mette nero su bianco scrivendo quel libro. Vi voglio ricordare la coincidenza dell'orario della firma a Malta del trattato di cooperazione economico-militare con l'Italia, apertamente osteggiato dalla Libia che fino a quel momento aveva in Malta un suo protettorato. Pochi sanno che la difesa di Malta era cura dei militari libici che erano presenti in gran numero sull'isola. Tra maggio e giugno dell'Ottanta diversi contatti tra Libia e Italia finché una delegazione libica incontra Zamberletti e senza mezzi termini gli fa presente che la stipula di quel trattato sarebbe stata considerata un atto di ostilità dell'Italia contro la Libia. Il 27 giugno una bomba esplode sul 19 Tavia e il 2 agosto seguirà l'altra alla stazione di Bologna. Zamberletti rimarrà molto colpito da quella coincidenza tra scoppio e momento della firma e si sentirà in colpa per non aver colto l'attentato all'aereo come un avviso, la minaccia, specie quando alcuni anni dopo l'allora capo della polizia Parisi gli fece notare come gli avvisi vengono ritirati finché non sono capiti. Oltre alla coincidenza degli orari ci sono altre significative coincidenze riferite alla strada della stazione. Ad esempio il pernottamento di Thomas Crum la notte tra l'1 e 2 agosto sempre nello stesso albergo in cui aveva già pernottato mesi prima ma quella volta, altra coincidenza, in contemporanea con quel Paolo Bellini nominato poco fa e condannato in primo grado all'ex Garzolo per la strage di Bologna. Chi desidera approfondire chi è Thomas Crum può farlo guardando i video che Gabriele Paradisi ha pubblicato sul suo canale riferiti alla strage di Bologna di cui lascio il link in descrizione. Ne approfitto per segnalarvi che anche Paolo Bellini è stato intervistato e potete seguire l'intervista integrale che è anche piuttosto lunga al link che trovate pure in descrizione. Thomas Crum nato il 18 luglio del 48 per chi non lo sapesse era l'esplosivista di Carlos. Carlos è il soprannome di Ilic Ramirez Sanchez. Dov'è adesso Carlos? È in carcere a Parigi. E Thomas Crum che fine ha fatto? Pare che sia vivo da qualche parte. Dico così perché, cito da un'intervista, per anni la sua identità è stata protetta anche all'interno della banca dati delle nostre forze dell'ordine. E prosegue. Il fascicolo intestato a Thomas Crum agli atti del posto di polizia di Ponte Chiasso dove venne fermato e sottoposto a perquisizione sotto il profilo doganale la mattina del primo agosto 1980 sia stato distrutto eliminando così definitivamente la possibilità di ulteriori riscontri investigativi e giudiziari. Su quest'uomo c'è dunque parecchio mistero. Venne però intervistato nel 2010 e vi lascio anche questo link dal quale poi potete leggere l'intera intervista. da cui ho tratto quello che ho detto poco fa. Qualcuno di voi avrà già notato che in entrambi i casi, 19 e stazione, è coinvolta la città di Bologna. E sarà stato facile pensare che si sia trattato di una coincidenza voi diabolica o inquietante o semplicemente curiosa. È invece molto probabile che nella scelta della città si nasconda un significato simbolico per far capire a chi doveva capire che la matrice era la stessa. Incidentalmente lo era anche l'esplosivo utilizzato, cioè il TNT, il Tritolo e il T4. Purtroppo le indagini non hanno mai considerato la simbologia. Essi sono tenute separate dai due stragi, da un lato perdendosi tra missili duelli farlocchi, dall'altro chiamando da subito in causa il terrorismo nero senza che ci fosse mai stata una rivendicazione dei gruppi estremisti di destra. Facciamo una breve analisi. Da Bologna parte un aereo, mezzo di trasporto. Si colpisce nuovamente nella stessa città, Bologna, ma stavolta la sua situazione, luogo con altri mezzo di trasporto. Si colpiscono passaggeri innocenti. Come del resto era stato già preannunciato con la frase che si può leggere in questo documento, che vi faccio vedere. Con operazioni che potrebbero coinvolgere anche innocenti. Confermata la data del 16 maggio quale termine ultimo per la risposta da parte delle autorità italiane alle richieste del fronte. Si colpiscono persone che viaggiano su mezzi di trasporto, che transitano a Bologna e per tornare i significati simbolici, i missili di Ortona vengono scoperti su un furgone che era partito da Bologna, che è la città dove era anche domiciliato e venne arrestato a Buonzele Salè. Nome che chi mi ha seguito già sa riconoscere. Bologna è stata colpita due volte e non per caso. Ma la tesi, subito sostenuta dal partito comunista italiano che si è voluto colpire la città più rossa d'Italia, suggerisce che la bomba a Bologna alla stazione era nera, spostando l'attenzione sul terrorismo di destra e non vengono di conseguenza percorse anche le piste internazionali che, stante la situazione italiana pullante di movimenti aversivi neri e rossi, potevano anche essere considerati inverosimili, ma che erano invece le piste giuste. Questo cosenno di poi, occorre anche dire. Persino si diceva che la bomba a Bologna serviva a distogliere l'attenzione dall'aereo di Ustica, giungendo a sostenere l'assurdità di poter far dimenticare una strage facendone un'altra. Si ottiene invece l'effetto opposto in questo caso, ovvero quello di rafforzare l'attentato e non l'incidente, rafforzare l'ipotesi di attentato e non appunto di incidente. Vedi per esempio i due aerei che si sono schiantati contro le torri gemelle a New York, scusate che sono andato un po' oltre, eccoci qua, dove il secondo aereo serviva anche a confermare che per il primo aereo non si era trattato di un incidente, perché uno può pensare che si è andato addosso, però se ce ne vanno addosso due non è più possibile pensare che siano un caso e l'altro no. Nonostante si fossero incolpati i neofascisti della strage, ai vertici dello Stato c'era chi sapeva molto bene come erano andate le cose. Ancora una volta cito quei documenti, quello che adesso vi faccio rivedere, che ho pubblicato in un precedente video nel quale potete vedere tutti con calma. Comunque questo qui, appunto per il direttore di servizio, Sismi, 12 maggio 1980, troviamo il nome di Giovannone, Minacce contro gli interessi italiani. E in quest'altro documento, che fa sempre parte di quei documenti che sono stati inviati per sbaglio al Tribunale di Brescia, quindi sono di fatto andati, come vedete, pubblici, diventati pubblici, però sui giornali non vi li mettono. In quest'altro documento potete notare le richieste del fronte popolare Liberazione Palestina per addomesticare i processi verso gli autonomi arrestati, Pifano, gli altri, e del loro Abu Anzè Saleh. E ci sono anche delle valutazioni, ve le faccio vedere, qui c'è il brigatista, viene nominato il brigatista Peci, appunto ci sono anche delle valutazioni che tengono conto delle rivelazioni del pentito terrorista brigatista Rosso Peci per quanto riguarda la data del processo di appello che doveva essere fissata. Quindi loro si fanno scrupolo di attendere perché delle dichiarazioni di Peci avrebbero potuto, come c'è scritto qui, avere un impatto sull'opinione pubblica, sul Parlamento, sul Governo, eccetera, eccetera. Allora, ad aumentare la convinzione che la bomba alla stazione fosse delle versioni nere, è stato anche un attentato con autobomba avvenuto la notte tra il 29 e 30 luglio, 80, di matrice probabilmente nera, esplosa autobomba davanti al Palazzo Marino, che è sede del municipio di Milano, nel momento in cui dovevano uscire i componenti della neoformata giunta rossa. La strage è stata mancata per poco, anche per questo episodio vi lascio un link in descrizione. Poi c'è un altro dettaglio che porta direttamente nel delicato campo della simbologia ed è l'orario dello scoppio, 10 e 26, che è quello che mostra l'orologio a muro della stazione. Leggendo l'ora come se fosse una data all'anglosassole dove il mese precede il giorno, si ottiene 26 ottobre. Questo potrebbe non significare nulla per nessuno, ma il 26 ottobre è una delle due ricorrenze anti-italiane istituite dal governo libico con lo scopo di ricordare le deportazioni a Ustica, Ponza, Isole Tremiti, Pantelleria, dovrebbe esserci ancora un'altra, adesso non mi viene in mente il nome, in cui erano deportati gli oppositori libici, cioè quelli che si opponevano sia al colonialismo italiano iniziato dal 1911 e proseguito poi col fascismo. Tra l'altro, collegando tra loro le isole che ho nominato prima, il punto di intersezione delle rette che si forma è coincidente con il punto di caduta del 19, il cosiddetto punto Condor. Questo lo trovate anche spiegato nel video dell'avvocato Jacopo Gori. che a sua volta sicuramente lo ha letto nel libro Ustica 40 anni dopo riflessioni su un caso aperto. Vi faccio vedere la copertina. L'altra ricorrenza è il 7 ottobre, la giornata della vendetta contro l'Italia. Quindi in ottobre abbiamo due date, il 7 e il 26. Curiosamente e incredibilmente, se noi invertiamo il 6 col 7, otteniamo all'anglo sassole la data del 27 giugno, cioè 6 punto 27. Questo è un gioco. È un'altra coincidenza perché si diletta di numerologia o è il massimo della sottigliezza simbolica? Lasciandoci alle spalle questa curiosità, voglio invece richiamare la vostra attenzione su un altro aspetto, l'ora dell'esplosione che come dicevo prima è le 10 e 26. Di solito viene detto che alla stazione la bomba esplosa alle 10 e 25, ma il minuto di differenza è di scarsa importanza. Nel video in cui ho parlato delle simbologie, ho fatto presente, e qui comunque lo ripeto, che le ricorrenze vengono a volte leggermente mascherate. Faccio piuttosto notare che l'orario dello scoppio ha una doppia coincidenza, con l'orario della firma del trattato a Malta e con la ricorrenza libica del 26 ottobre. Ritornando alle commemorazioni del 2 agosto, l'attuale presidente Mattarella ha dichiarato, tra l'altro, nel suo discorso, che la matrice neofascista della strage è stata accertata in sede giudiziaria, ma è interessante che nei servizi tv, dopo che hanno detto che i neofascisti sono stati condannati, i commentatori hanno onestamente sottolineato che permangono tuttavia molti lati oscuri, quello che già dicevo all'inizio. E questo dà adito a pensare che quei, tra virgolette, colpevoli, siano stati condannati non tanto secondo il principio ispiratore del giudizio penale, al di là di ogni ragionevole dubbio, e per tali principi o di lati oscuri non se ne può parlare, bensì applicando quello probabilistico in uso nel giudizio civile, quello cioè che ha fatto sì che il giudice ordinario aggregato a Batticani e successivamente giudice civile Paola Proto Pisani sentenziassero l'abbattimento del 19 dovuto a una quasi collisione o missile blast, quello che sarebbe causato dal missile a risonanza inventato da Cossiga in quella famosa intervista. Quindi, conseguenze di una battaglia aerea, facendo un gran favore a chi di quel missile e battaglia aerea aveva un gran bisogno e contribuendo a certificare e rendere immortale la paranoia della battaglia aerea, da cui siamo purtroppo arrivati alla creazione di fondazioni, con il dichiarato scopo che anche le prossime generazioni crescano convinte della battaglia aerea e della poca affidabilità delle istituzioni. Mi riferisco a quanto detto dal sindaco di Bologna nel proprio discorso del 26 giugno 2022 in sala consigliare, che da di pubblico dominio è stato poi stranamente secretato su YouTube e trasformato in privato, ovvero disponibile solo a chi ha il link che trovate in descrizione. Grossolanamente anche per la strage di Bologna si sta ricalcando quanto avvenuto per Ustica, ma in modo peggiore, essendo in questo caso lo stesso tribunale penale a ispirarsi al principio probabilistico che stavolta, anziché comportare la condanna dello Stato al pagamento di risarcimento milionari ad erede e parenti delle vittime, vede lo Stato condannare all'ergastolo delle persone che è più probabile che siano innocenti che non colpevoli, almeno per quella strage avranno le loro colpe, ma hanno anche la loro dignità nel rifiutare delle colpe non loro e su questo lo Stato perde parecchio credibilità. Tutto questo lo dobbiamo anche a governi che non hanno mai trovato il coraggio di dire la verità e governi che non hanno mai trovato il coraggio di dire la verità ai propri cittadini generano sfiducia e indeboliscono lo Stato. Su Ustica e Bologna i vari presidenti della Repubblica, e vi mostro solo quello che secondo me sapeva quasi sicuramente bene tutti retroscena delle due stragi, dicevo i vari presidenti della Repubblica hanno semplicemente speso vuote parole di retorica senza mai aver avuto il coraggio di spiegare come sono andate veramente le cose, perché non solo significherebbe, come affermato nel 2020, mettere in pericolo la sicurezza nazionale, non si sa bene da chi tra l'altro, ma anche mettere a nudo le responsabilità di molte persone che hanno ricoperto importanti ruoli nella vita pubblica italiana. Ustica e Bologna sono due stragi che non sono stragi da missili o aerei vaganti o del terrorismo nero, ma sono due rappresaglie, preannunciata con tanto di ultimatum quella di Ustica, quasi che la si volesse in ogni modo evitare, e che il governo italiano del giugno 1980 non è riuscito o non ha potuto o voluto evitare. Nel primo caso veniva richiesta la liberazione di un esponente del fronte popolare di liberazione palestina e restituzione o rimborso di due SAM-7, in osservanza di patti genericamente conosciuti come Lodo Moro. Nell'altro non si voleva la stipula di un trattato ritenuto dai libici un atto di ostilità nei loro confronti. Su questo ultimo documento termina questo video e ci diamo appuntamento alla prossima. Grazie.